Oggi la redazione di dossiersalute.com si trova a Torino e si trova nuovamente in compagnia del professor Stefano Bruschi, direttore universitario di chirurgia plastica presso l'Università di Torino. Buongiorno innanzitutto professore, ben ritrovato. Oggi con lei vorremmo parlare della chirurgia plastica e il mondo. Perché ci sono tante persone apparentemente distorte dalla chirurgia plastica? Semplicissimo, perché più delle volte chi si appresta a fare questa professione di chirurgo plastico ricostruttivo, ma specialmente estetico, deve avere veramente un insight su quello che è bello. Allora è così molto semplice imparare a fare il chirurgo estetico, ma la prima cosa che devi identificare è ciò che è bello. Tu identifica e fai mente locale su ciò che è bello e poi sorprendentemente tu devi solo imitarlo. Allora in questo modo, avendo chiaramente alla base un bagaglio tecnico non indifferente, ma se tu riesci a identificare l'obiettivo del bello, ecco che riesci a imitarlo e non avrai pazienti distorte. Quanto sono importanti per lei le proporzioni nella chirurgia plastica? Le proporzioni sono fondamentali. Quando uno deve intervenire non solo sul corpo, ma pensiamo alla faccia, pensiamo a qualcosa che rappresenta tutto l'essenza delle proporzioni, la rinoplastica, il naso. Se tu non riesci a identificare le proporzioni ottimali, ecco che non avrai mai un risultato esteticamente valido. Per cui le proporzioni sono fondamentali. Uno deve ragionare in 3D. Sono tante le persone che si rivolgono alla chirurgia plastica dopo problemi di obesità. Cosa ne pensa? Ma io credo che oggi l'obesità, come sappiamo, rappresenta una patologia. È una patologia non solo del mondo occidentale. Per cui quando uno interviene dimagrendo un paziente, voi con la chirurgia bariatrica, allora poi ci sono le conseguenze di questo dimagrimento importante. Lì il chirurgo plastico deve rimodellare questo corpo che comunque si è modificato. E si parla di body reshaping. E sono tanti interventi perché deve intervenire sul seno, sull'addome, sulle braccia, sulle gambe e poi anche magari sulla pace.